Siamo qui con Manuel Lombardo della categoria 66 kg, innanzitutto complimenti, so che è la tua terza vittoria consecutiva, cosa si prova a ricevere così tante vittorie una dopo l'altra? Boh, sono felice, no non lo so, diciamo che è una conferma che anche cambiando categoria ma sono rimasto sempre lo stesso, da quando l'ho vinto a 55, poi a 60 e adesso a 66. Ok, e qual è il tuo segreto per cui ricevi tutti i tanti risultati fatti vedere? Mi faccio il culo, eh niente, l'allenamento è l'unica cosa, poi secondo me è una cosa che sta dietro a ogni atleta che vince e le persone che gli stanno dietro, perché comunque io faccio parte del gruppo sportivo dell'esercito che comunque mi appoggia a tutte le gare, il mio allenatore è Toni Olo e comunque la mia famiglia che prima di entrare nell'esercito comunque ha investito tantissimo su di là. Ok, e pensi di fermarti dopo per il training rep? Sì, mi fermo con la nazionale per i primi due o tre giorni, non mi ricordo. Ok, e quali sono i tuoi impegni per il futuro? Penso l'Europa Cup Junior alla Colonia, in Spagna, e poi non lo so, dipende come va. Ok, grazie mille, complimenti a te. Grazie.